ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come uomini e donne conosciamo tutti riccardo per come si mostra oggi ma l'avete mai visto da ragazzo e irriconoscibile con i capelli lunghi lo scatto è stato mostrato sui social dal noto cavaliere riccardo guarnieri è tra i volti consolidati del trono over di uomini e donne spesso protagonista di confronti vivaci con gli opinionisti ma anche con alcuni colleghi del parterre maschile nel daytime di maria de filippi ha avuto più di una relazione importante ma non ha ancora trovato l'anima gemella noto al pubblico per la sua lunga e tormentata storia con ida platano riccardo ha posto la parola fine alla relazione con la dama i due dopo una serie d'alti e bassi hanno deciso di lasciarsi comprendendo di non essere fatti l'uno per l'altra riccardo è anche arrivato a chiedere la mano d'ida ma nonostante le buone intenzioni d'entrambi le cose sono precipitate oggi la platano si è legata ad alessandro vicinanza cavaliere conosciuto alla corte di maria de filippi nonostante vivano in due città diverse la neocoppia sta provando a far funzionare la cosa e ad oggi tutto sembra andare a gonfie vele anche se nei giorni scorsi qualcuno ha insinuato dubbi sulla stabilità del rapporto guarnieri ha accettato la scelta di ida anche se è convinto che vicinanza non è l'uomo giusto per lei e ha anche fatto qualche battuta fuori luogo sul cavaliere oggi riccardo presiede al trono over cerca la sua anima gemella ma a quanto pare non c'è ancora tra il parterre femminile la sua donna ideale nel frattempo il cavaliere si gode la sua solitudine mostrandosi molto attivo sui social dove si diverte a pubblicare selfie quotidiani riccardo guarnieri a 20 anni è irriconoscibile recentemente riccardo guarnieri ha pubblicato uno scelto davvero inaspettato l'immagine lo ritrae poco più che ventenne ed è davvero irriconoscibile rispetto ad oggi il cavaliere è insieme ai suoi fratelli sfoggia una chioma folta e nera e un sorriso appena abbozzato lo scatto da giovane ha incuriosito i fan che immediatamente hanno commentato l'immagine complimentandosi con il cavaliere oggi il riccardo guarnieri è un uomo affascinante e molto attraente cura con attenzione la sua immagine e anche la scelta dei look il suo profilo instagram è ricco di scatti in compagnia di amici e non manca di condividere tra i tanti selfie pubblicati i momenti di lavoro e relax insomma al cavaliere manca solo l'amore è certo di poterlo trovare alla corte di maria de filippi anche se le recenti frequentazioni non hanno avuto un esito positivo grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 Grazie per la visione!